Grazie. 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 Cominciamo perché siamo anche in streaming. Cercate anche di mettervi su questi primi banchi perché siete tutti concentrati sugli angoli. Bene. Allora, buongiorno e benvenuti e benvenute alla prima conferenza promossa dal progetto Replan EU intitolata Due anni di PNRR, tempo di un primo bilancio. Allora, io sono Enrico Borghetto, sono un docente della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri e sono anche il coordinatore del modulo Giammone Replan EU. E prima di lasciare la parola alla prolettrice alla ricerca dell'Ateneo Fiorentino, Deborah Berti, che aprirà formalmente questa nostra prima giornata di studio, permettetemi di riassumere cosa sono le azioni Giammone e cosa provvede il modulo che coordino. Le azioni Giammone sono iniziative nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca e sono finanziate dall'Unione Europea nell'ambito del programma Erasmus+. Esistono moltissimi tipi di azioni e i moduli Giammone sono tra quelle che si rivolgono agli istituti di istruzione superiore, promuovendo programmi e corsi di insegnamento nel campo degli studi sull'Unione Europea. E l'idea portante del modulo Giammone Replan EU è di stimolare l'insegnamento e la disseminazione su Next Generation EU e i piani nazionali di ripresa e resilienza, che sono strumenti per molti versi inediti nella storia dell'Unione e nella relazione dell'Unione con gli Stati membri, nati per rilanciare l'economia europea messa in ginocchio dagli anni di pandemia. Per raggiungere questi obiettivi il programma di questo modulo Giammone Replan EU prevede tre tipi di attività. Il primo sono seminari con esperti organizzati lungo tutto il corso dell'anno. Il secondo è proprio questa conferenza che vuole anche attraverso il servizio di streaming che è offerto dai canali di Euroactive, nostro partner, raggiungere un pubblico che non è necessariamente accademico, un pubblico più vasto. E infine un intero corso nella laurea magistrale di relazione internazionale e studi europei della Cesare Alfieri, che è anche uno dei pochi casi di attività di didattica interamente dedicata allo studio tematico di Next Generation EU. Altro valore aggiunto di questo corso è la prospettiva comparata. Abbiamo molti studenti Erasmus, il corso in inglese, e quindi abbiamo anche dato spazio a uno studio di altri piani di ripresa e resilienza europei. Un angolo che spesso manca quando si parla di PNRR in Italia. Vorrei cogliere quindi l'occasione, prima di tutto, per ringraziare il team di docenti. Siamo un team che si sono avvicendate la cattedra insieme a me nel corso dello scorso semestre. Valeria Fargion, Maria Grazia Pazienza, Enrico Coletta e Marco Maier. E tutti gli esperti che hanno dedicato il loro tempo al progetto, nel corso, nei seminari e nella conferenza di oggi. Ultimo ringraziamento va alla Scuola Cesare Alfieri e al Dipartimento di Studi Sociali e Politici di Firenze, che hanno da sempre supportato questo progetto. E con questo do la parola alla prorettrice alla ricerca, Deborah Berti. Ringraziandola. Grazie mille. Stavo guardando ora il modulo di teaching. Allora... È acceso? Perfetto. Allora, innanzitutto grazie per l'introduzione e grazie molte per l'invito. Come anticipato sono qui per rappresentare l'Università di Firenze e la sorrettrice Alessandra Petrucci, che non è potuta intervenire oggi, ma avrebbe voluto e mi ha pregato quindi di rappresentarla. Io sono la prorettrice alla ricerca dell'Università, quindi mi fa veramente molto piacere questo invito, perché anche io vedo il PNRR dall'angolo Unifi della ricerca. E l'angolo quindi vuol dire missione 4, componente 2 per gli addetti ai lavori. Chiaramente è una delle parole forse più abusate, sentite, PNRR, ritardi, attuazione, proroghe, eccetera. Noi abbiamo ovviamente questa scadenza, questa spada di Damocle, che è la rendicontazione al 2026, 28 febbraio 2026, e quindi abbiamo una enorme quantità, devo dire, di risorse a disposizione. L'Università di Firenze nella missione 4, componente 2, è impegnata su moltissimi fronti, perché siamo in tutti e cinque i campioni nazionali della ricerca. Siamo proponenti dell'ecosistema dell'innovazione, il The Tuscany Health Ecosystem, che quindi coinvolge tutti gli Atenei Toscani, il CNR, l'IT, i più altri attori privati, e siamo in 8 su 15 dei partenariati estesi. Quindi lo scenario che abbiamo davanti è quello di un fortissimo impegno, che è stato un forte impegno in ambito progettuale, un forte impegno attuale per mettere su tutta la macchina di rendicontazione, ma anche le centrali acquisti, eccetera. E questo è veramente, stavo dicendo, per esempio, prima che iniziasse la conferenza, che adesso abbiamo un problema, che il più grande fornitore di prodotti chimici e kit, che quindi ci serve per poi fare la ricerca del PNRR, ha detto non interesse a vendere su fondi PNRR, perché è troppo impegno compilare la dichiarazione di NSH di ciascun prodotto, che è il Do Not Significantly Armed, che è una delle azioni trasversali su questo. Quindi ci sono una serie di difficoltà, come dire, oggettive. Se io penso anche a questo piano, che dura tre anni, una volta ho sentito Agnese Pini, del Quotidiano Nazionale, che diceva lo dobbiamo pensare come un piano Marshall, perché effettivamente il piano Marshall ha avuto la durata di tre anni. Quindi è stato un piano che ha rimesso in piedi questo Paese, che l'ha portato al vertice del manufatturiero, eccetera. Quindi un'occasione incredibile e noi, come Università di Firenze, dobbiamo cogliere questa occasione, non come un progetto di ricerca qualsiasi, ma come qualcosa che ci porti ad essere, a modernizzare, ad essere qualcosa di diverso rispetto a quello che eravamo in precedenza. Quindi è una sfida formidabile, ma è qualcosa di trasformativo, io vorrei dire, è veramente difficile, come dire, maneggiarlo in tutte le sue complessità, in tutti i suoi angoli. E quello che state facendo voi oggi, e quindi ciò che vi troverete a fare, il vostro lavoro, è ugualmente importante, perché la parte di conoscenza, di disseminazione, è qualcosa di fondamentale, perché c'è una condivisione, adesso si apre il telegiornale, c'è questa PNRR Ansia, in parallelo con l'EcoAnsia, non ci si farà, siamo indietro, ci sono ovviamente delle difficoltà, come vi dicevo, va riportato sui binari, l'Università di Firenze ha in tutto, mi sembra, 150 RTD assunti su questo progetto, operativi dal primo gennaio, quindi oltre a un numero circa pari di dottorandi. Quindi sostanzialmente le cose sono state messe in moto con un enorme sforzo riorganizzativo, è importante che si sappia, e mi fa molto piacere, che ci sia anche questo modulo di insegnamento da voi, che senz'altro va poi cortocircuitato, anche con la nostra area dirigenziale PNRR, creata per l'occasione. Quindi con questo io concludo, vi ringrazio, e ascolterò con piacere l'intervento di chi mi seguirà. Ancora vi faccio i miei migliori auguri per un'ottima, diciamo, occasione congressuale, perché è importante questo angolo che voi ci portate. Grazie. Grazie mille. Allora, diamo quindi inizio ai lavori di oggi, presentando il programma della giornata, giornata che abbiamo voluto intitolare due anni di PNRR, tempo di un primo bilancio, e l'obiettivo di questa giornata è di invitare a una riflessione su quanto è stato fatto dal 30 aprile 2021, da quando abbiamo mandato il nostro PNRR alla Commissione Europea. Riteniamo che sia un momento propizio anche per questo tipo di riflessione, perché il 2023 rappresenta certamente un punto di svolta per l'attuazione del PNRR, che passa dalla fase di programmazione e adozione di provvedimenti normativi, che sappiamo sono rendi contati in termini di milestones raggiunte, a quella degli investimenti, dei cosiddetti targets. Entriamo quindi nella fase attuativa, nella messa a terra dei progetti. Altro punto che ci conforta nella scelta di questa ricorrenza per una riflessione è che per la fine del mese, quindi proprio in coincidenza con la conclusione del primo biennio, al nostro Paese è richiesto di presentare alle istituzioni europee le proprie richieste di rimodulazione del piano, anche alla luce del pacchetto di proposte avanzate dalla Commissione nel 2022 sotto l'etichetta di Repower EU. Il rincaro delle spese energetiche e più in generale delle materie prime hanno comprensibilmente fatto crescere voci di spiesa di molti progetti contenuti nel piano italiano, tanto che alcune stime affermano che circa il 40% di milestones e targets andrebbero riveduti. Si tratta quindi di uno scenario più complesso rispetto a quello di partenza, con crisi che si accavallano. Lasciata alle spalle la pandemia che aveva portato gli Stati membri a investire in un piano di ripresa comune, Next Generation EU appunto, la nostra realtà da più di un anno è quella di una guerra in suolo europeo. Questo per dire che abbiamo di fronte a noi mesi di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, che sono il rilancio dell'economia del nostro Paese e lo sblocco di molte riforme e investimenti, soprattutto in campo ambientale e del digitale. E ci sarebbe molto altro da dire sulla riforma della governance, sul monitoraggio di quanto si sta facendo, sulla capacità di spesa dei nostri apparati amministrativi locali. E sono sicuro che molti di questi temi verranno ripresi nel nostro dibattito. La relazione introduttiva, e qui passiamo alla presentazione, è affidata al professore Nicola Lupo, ordinario di istituzione di diritto pubblico presso la scuola Luis Guido Carli di Roma. E il professor Lupo, da osservatore della prima ora, anche interno delle dinamiche che hanno portato alla luce il PNRR e i suoi sviluppi, ci proporà le sue riflessioni con una relazione dal titolo PNRR, la sua attrazione e la sua modifica verso un nuovo metodo di buogoverno. Professore, le do la parola. Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie, grazie al professor Borghetto per questo bell'invito e alla prolettrice per le sue parole introduttive. L'iniziativa accade in un momento molto molto delicato, quindi è un'iniziativa molto opportuna, forse fin troppo verrebbe da dire, nel senso che siamo in un momento in cui è anche difficile, si parla molto di PNRR, in un passaggio tra la fase 1, se volete, e la fase 2. Il ministro Fitto ha usato questa espressione del PNRR e anche delle parole che avete prima sentito. Quindi credo che sia particolarmente opportuno cercare di fare chiarezza, nei limiti del possibile. Io posso farla per uno spicchio, ovviamente, del tutto. Non aspettatemi da me una chiarezza assoluta su quello che posso fare. Il mio punto di vista è un punto di vista di uno studioso diritto costituzionale, appunto. Tra l'altro, ricordavo un attimo fa, anche la prolettrice, formato anche in questo Ateneo, nel senso che ho fatto il mio dottorato in diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Allora era a Via Giusti, ma poi ho continuato a seguirne le attività anche quando si è trasferito qui. Quindi è sempre un po' a cavallo tra giurisprudenza e scienze politiche, perché io sono affiliato presso il Dipartimento di Scienze Politiche della LUIS, quindi sono abituato alla multidisciplinarità. Ho qualche problemino a far avanzare le slide, non so se riusciamo... Provo a farlo con... Grazie mille. Provo a parlarvi del PNR appunto da studioso del dito costituzionale, quindi il mio punto di vista... Perfetto, va benissimo anche da questo senza... Grazie mille, scusami, vediamo se adesso riusciamo a farlo andare... Puoi metterti più vicino? No, se non è meglio... Se no, non so se puoi mettermi il computer vicino così faccio il tasto nel modo più... Se no, mettiti qui. Mettiti qui. Perdonate. Grazie, scusami, facciamo uno switch allora magari... Sì, è così... Ok, perfetto. Dicevo... Posso parlare in piedi così forse mi vedo un pochino meglio, vediamo se come audio... Non cambia moltissimo, vedete la mia statura, ma un pochino... Non sono dietro a uno schermo, se non altro viene un po' meglio. Dicevo, quindi, quello che vi racconto nasce un po' da un approccio da costituzionalista, quindi da studio sul diritto costituzionale, ma anche da un'esperienza pratica, nel senso che sono stato coinvolto per un anno e mezzo nella fase di partenza del PNRR, di partenza dell'implementazione del PNRR. Oggi festeggiamo i due anni dall'invio a Bruxelles del piano. In realtà i due anni del piano, dalla sua efficacia, diciamo, dovremmo festeggiare da metà luglio, se volessimo essere precisi per... Ma va benissimo, e anzi, questo compleanno mi viene particolarmente bene per sottolineare un aspetto su cui torno tra un attimo, che è quella della cosiddetta ownership del piano, cioè il fatto che il piano non è un qualcosa che viene da fuori, ma è un qualcosa che nasce da dentro, nasce dall'Italia, che l'ha formulato. Ma ci torneremo su questo. Dicevo, l'ho seguito da vicino, l'ho seguito da vicino perché il Presidente del Consiglio Draghi mi ha nominato nel settembre del 2021 come coordinatore di una delle tre strutture di missione PNRR che sono state istituite nella Presidenza del Consiglio. La governance originale del PNRR prevedeva che il Ministero dell'Economia e delle Finanze avesse la gestione del piano, sostanzialmente, e anche dei rapporti con Bruxelles nel loro sviluppo, ma che ci fosse anche una struttura in Presidenza del Consiglio a supporto di quella che è la cabina di regia PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio, che è appunto l'organo di indirizzo politico strategico nell'attuazione del piano. E a supporto di questa cabina di regia c'è una sua segreteria tecnica con una sua unità di missione, una unità che ha questo nome piuttosto sceno, devo dire, ma l'ha scelto il legislatore, non l'ho scelto io, unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Nel gioco dei sinonimi potete immaginare che vi sia una parola che è stata evitata in questo titolo. hanno voluto evitare la parola semplificazione, perché un'unità per la semplificazione già esisteva, esiste. E quindi nel giochino... E poi c'era una terza struttura, questa terza è stata soppressa adesso dal Decreto Legge 13 del 2023, che era il tavolo per il partenariato economico e sociale e territoriale. Questo tavolo è stato soppresso e assorbito nella cabina di regia, tant'è che se avete visto le foto sul sito del Governo di ieri, la convocazione della cabina di regia di ieri ha incluso i sindacati, le forze sociali, le rappresentanze dei sindacati, industrie, professionisti e quant'altro, che invece in precedenza erano convocati attraverso il tavolo. E anche la mia unità ha ricevuto un cambiamento di funzioni, non si occupa più direttamente del PNRR, pur essendo una struttura di missione PNRR. Devo dire, a questo punto, dal mio punto di vista, ho considerato anche perché le mie competenze erano più utili per la prima fase che per la seconda, del PNRR di rientrare in LUIS, e quindi dal primo aprile sono rientrato dall'aspettativa e tornato a fare il professore universitario a tempo pieno, che è quello che mi piace di più fare. Però questa esperienza è stata un'esperienza ricchissima e interessantissima, e provo, anche alla luce di questa, a raccontarvi un pochino il quadro del PNRR, appunto, della sua attuazione, come cerco di dare poco per scontato, ma un pochino di cose per scontato, devo dirlo, in estrema sintesi, già è stato detto in qualche misura, è un piano quinquennale, con questo termine del 2026, che è un termine rigido, almeno al momento, e tale sarà, se non altro, fino all'anno prossimo. Poi dopo le elezioni europee si vedrà, avremo, secondo me, una partita di ridecisione politica su quello che è il piano. Per il momento, però, il termine del 31 agosto, in realtà, per la rindicontazione del 2026, quello finale del MEF, diciamo, complessiva, è il termine inderogabile. nasce in esito la pandemia, su questo non c'è dubbio, ma in realtà, e questo tengo molto a sottolinearlo, non è esclusivamente il frutto della pandemia, anzi, in realtà raccoglie una serie di dibattiti che si sono svolti sul modo migliore di coordinare le politiche fiscali, le politiche di riforma all'interno dell'Unione Europea, e la pandemia ha consentito di fare un salto in avanti rispetto alla situazione preesistente. E in realtà delinea, proprio per questo, a mio avviso, questa è la tesi che intendo sostenere, un nuovo metodo di governo, cioè un modo di procedere al coordinamento delle politiche di riforma che è sostanzialmente inedito, che è nuovo per l'Italia, come per l'Unione Europea, attenzione. Perché? Perché il modo di coordinamento che finora era stato messo in piedi, quell'operante, quello che si fonda sul semestre europeo, come disegnato a seguito della crisi finanziaria, dal six-pack, dal two-pack, per intenderci, all'inizio del scorso decennio, funziona molto poco. Funziona molto poco, ha funzionato molto poco, in particolare le cosiddette country-specific recommendation. Perdonate l'uso del termine inglese, lo dico da subito, ma lo faccio per capirsi, perché il rischio, altrimenti in alcune traduzioni, è di portarsi dei termini che poi non sono compresi, perché sono, in particolare, per esempio, maestro e target, sono tradotti malamente e in modo variegato dal legislatore e non solo italiano. Quindi preferisco, piuttosto che fare riferimento a pietre miliari o traguardi per le milestone. Parlai di milestone, facciamo prima, target, obiettivi, sì, ma insomma, Grants qualche volta viene tradotto come doni. Mamma mia, che brutta espressione. Non sono doni, non sono regali infiocchettati, sono trasferimenti di fondo a titolo, non a prestito, senza, ma e l'ONS sono i prestiti. Perciò io tutto sommato preferisco, non è così appunto, le counter specific recommendations, raccomandazioni specifiche paese per paese, dettate alle istituzioni europee, in occasione e in risposta all'invio per noi del DEF, del documento di economia e finanza, di quelle che sono le linee di politica economica a venire e delle riforme delineate in quest'ultimo, hanno avuto un tasso di recepimento bassissimo negli Stati membri. Non solo in Italia, badate. complessivamente tra quelle parzialmente attuate e quelle attuate in modo soddisfacente non si supera il 22-23%. Queste sono ripetute anno dopo anno ottenendo un risultato minimo. Ecco allora l'esigenza di trovare un meccanismo diverso. Il meccanismo diverso è appunto il PNRR. L'idea di un piano, quindi una programmazione quinquennale, come dicevamo, con delle tappe ben precise, scadenzate appunto in milestone e target, la differenza è che le milestone sono più qualitative, i target più quantitativi, e in cambio di risorse, appunto, o a fondo perduto, o a titolo di prestito, però assunto a livello europeo. Comune. anche questo elemento sostanzialmente nuovo, almeno per questa entità, da lungo oggetto di dibattito, i famosi euro bonds, cos'erano? Sostanzialmente prestiti. Questo è, se volete, ma in estrema sintesi, insomma, l'ammontare finanziario, le emissioni, sono le emissioni che, se ci fate caso, coincidono sostanzialmente con quelle che erano le linee programmatiche della Commissione Europea, che si era insediata da poco, la Commissione von der Leyen. Non ci dimentichiamo, cerchiamo di tenere sempre presente sia l'elemento della politics, del ciclo politico elettorale, che le policies. Questo, voi qui siete a casa, ovviamente, il vostro linguaggio, ma vanno messi insieme entrambi, perché questa decisione è stata presa in un momento molto particolare dell'Unione Europea. Il momento in cui c'era una nuova Commissione, che si era appena insediata, aveva una sua linea programmatica, doveva anche ridisegnare il multi-annual financial framework, il bilancio pluriannale dell'Unione, per semplificarci, e quel bilancio è stato ridisegnato includendo le risorse del PNRR. Altrimenti non si sarebbe potuto fare. Questo non va dimenticato, per capire, è così come non va dimenticata, ovviamente, la politics a livello interno. Non va dimenticata la politics a livello interno, perché nel momento in cui si è passati dalla fase europea di approvazione e di definizione delle caratteristiche del Next Generation EU alla fase interna di approvazione di un piano e di approntamento delle strutture per implementarlo, c'è stato un passaggio di consegne tra un governo e l'altro, che non è stato casuale, ma ha risposto all'esigenza di avere sul piano interno un governo che avesse una maggioranza più ampia, tale da poter gestire, predisporre e poi gestire e iniziare a implementare un programma che avesse una gettata appunto pluriennale che scavalcava le elezioni politiche. Capisco che fa effetto mettere insieme queste cose, ma è necessario, altrimenti non capiamo quello di cui parliamo, purtroppo, e anzi, qui stanno poi in realtà i nodi veri, emergono proprio da questo tipo di logica. Lo diceva prima il professor Borghetto, accennava, più si va avanti più aumentano i target rispetto alle milestone, più gli investimenti rispetto alle riforme. Lo vedete molto bene a sinistra, le milestone all'inizio sono nettamente prevalenti, la rata di cui siamo attualmente sotto assessment, sotto valutazione, è quella di dicembre 2022, che vedete come Grand Salon più o meno ci siamo metà in metà, ma soprattutto vedete che le milestone sono 39 e incominciano ad esserci 16 target. Sui target bisogna dimostrare di aver raggiunto quegli obiettivi come specificati nel piano. Non basta dire abbiamo approvato la legge che ha quei contenuti stabiliti nel piano, ma bisogna precisare questo. E lo stesso emerge abbastanza chiaramente in termini di investimenti, sia per capire quanto gli investimenti italiani pesano sul complesso del piano, sia per vedere come sono distribuiti e come sono sviluppati sul piano temporale. Non ho tempo ovviamente per andare a fondo su questo, ma insomma così come mentre invece vado sul nodo ovviamente la tempistica spero di farcela, ma insomma aiutami Enrico se nel momento in cui c'è da accelerare lo facciamo volentieri. Sottolineo da costituzionalista non posso non farlo proprio a luce di questo elemento che vi dicevo prima di mettere insieme la politics con le policies, no? In qualche modo in termini costituzionalistici noi tendiamo a dirlo come il PNRR ha una profonda influenza sull'indirizzo politico e va visto all'interno della forma di governo e delle sue dinamiche dinamiche che si svolgono in parte a livello nazionale e in parte a livello europeo. Le forme di governo sono strettamente intrecciate se vogliamo dirlo in termini politologici appunto parliamo di politiche pubbliche di ciclo politico elettorale e quant'altro e ovviamente guardiamo il caso italiano è molto importante è oggetto di grandissima attenzione anche fuori d'Italia perché c'è la quota più rilevante delle risorse del piano perché in mezzo abbiamo avuto delle elezioni e non potevamo non averle e queste elezioni hanno registrato un cambio di indirizzo politico. Quindi cosa succede del PNRR? E qui viene in questione cos'è il PNRR dal punto di vista giuridico perdoneranno i politologi presenti ma il problema è corretto ed è legittimo porselo e qui sentiamo un po' di tutto sentiamo chi dice no è solo un impegno politico giuridicamente non ha nessun rilievo oppure no addirittura è stato tra i primissimi commentatori un illustre collega Marcello Clarice è andato su questa linea un altro illustre collega amministrativista ha detto no è come se fosse una legge è stato legificato o se volete prevalentemente gli economisti tendono a parlare di un contratto un contratto tra chi? tra ciascuno stato membro della commissione europea contratto bilaterale a prestazioni corrispettive tu mi fai le riforme mi fai degli investimenti ti do dei soldi in cambio guardate tutti e tre i punti di vista hanno un qualche fondamento ma nessuno dei tre è corretto a mio avviso è un atto che incide sull'indirizzo politico non c'è dubbio ma non è una legge ci sono tante leggi fatte per attuarlo tanti decreti legge l'ultimo appunto il 13 convertito ieri e che uscirà in gazzetta credo oggi perché dovrà entrare a far parte dell'assessment che viene completato entro questo mese quindi ci sono alcune misure che servono alla commissione europea per chiudere positivamente la valutazione in corso e la commissione europea aspetta la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione non gli basta il decreto legge perché sa che il decreto legge può essere emendato può decadere e sì a forza di legge ma è provvisorio e io non mi fido voglio la legge di conversione in gazzetta quindi c'è anche la legge e c'è anche una logica contrattuale perché ci sono è vero che c'è uno scambio e ci sono anche degli operational arrangements bilaterali sottoscritti dal ministro dell'economia dal ministro dell'economia e dal commissario europeo per gli affari economici sul come si attua il piano quali sono gli indicatori da verificare ma a me convince poco nessuna di queste tesi si convince perché in realtà cos'è il piano il piano lo trovate l'annex in particolare che trovate sul sito Italia Domani se l'avete mai visto scaricatevi l'allegato non il piano quelle tabelle lì di quella decisione di esecuzione del Consiglio sono una decisione di esecuzione del Consiglio un atto dell'Unione Europea giuridicamente vincolante conforme alla proposta del governo italiano cioè su proposta del governo italiano che la Commissione Europea ha valutato e ha modificato alla luce delle priorità e delle caratteristiche trasversali che il piano deve avere ecco allora che quello che il nodo giuridicamente vincolante dov'è è sul procedimento infatti la mia tesi è che il PNRR sia un procedimento euro nazionale che vuol dire un procedimento disciplinato in parte dal diritto dell'Unione Europea in parte dal diritto nazionale che coinvolge le istituzioni e l'Unione e che coinvolge le istituzioni di ciascuno Stato membro che vi aderisce e quindi anche dell'Italia se ci fate caso questo è il vero nodo infatti le polemiche le questioni problematiche dove sono? sono sui tempi sullo sviluppo del procedimento anch'io pensavo come ha detto un attimo fa il professor Borghetto che a fine aprile il governo italiano avrebbe presentato la proposta di revisione del piano perché così era stato invitato a fare prima verbalmente dalla commissione e il governo italiano aveva detto sì informalmente nel novembre scorso c'è un incontro pubblico in cui questo viene raccontato questo è stato scritto anche nelle linee guida nella guidance che la commissione europea ha pubblicato a febbraio il governo italiano invece ha deciso questa settimana sostanzialmente almeno ha reso noto questa settimana che si prenderà più tempo siccome il termine è stabilito nel regolamento di modifica perché questo procedimento dove è disciplinato questo procedimento è disciplinato in un regolamento dell'Unione Europea che è il regolamento facile da ricordare 241 del 2021 e questo regolamento è stato recentemente modificato lo si accendava un attimo fa dal regolamento Repower EU ne parleremo tra un attimo se ci riusciamo che è il regolamento 435 del 2023 del febbraio scorso è entrato in vigore il primo marzo in questo regolamento c'è scritto che le modifiche al piano che includono il capitolo di Repower EU vanno presentate entro agosto ecco allora che la questione politica in questi giorni è proprio questa quanto ci mette il governo italiano a presentare e questo cambia tutto in realtà perché nel frattempo noi stiamo attuando il piano ci sono delle maestro dei target che sono stati raggiunti entro marzo il 31 marzo il codice degli appalti per citare il più famoso andava approvato il 31 marzo 2023 ed è stato approvato e è apparso in gazzetta guarda caso il 31 marzo 2023 poi discutiamo dei contenuti i contenuti in realtà ancora vanno visti per bene con la commissione europea quindi probabilmente saranno oggetto di non poche modifiche ma intanto il codice è stato approvato per quei tempi di questo codice si darà conto nella prossima rata la prossima rata è prevista per giugno e a questo punto come si fa a fare la rata quando si sta aggiornando il piano l'idea se si presentava entro aprile si poteva fare la rata già modificata con il piano già modificato adesso diventa tutto più complicato non lo so come se ne esca sentiremo eventualmente se la dottoressa Adelaide Miozzi che parla dopo ci racconterà qualcosa della commissione europea in più su questo io devo dire non sono in grado di formulare previsioni questo è se volete ma non avete tempo di guardarvelo poi vi lascio le slide ovviamente il procedimento ero nazionale come disciplinato del regolamento 241 del 2021 per darvi l'idea di come è articolato diciamo ma non voglio andare su questo mentre invece ci tengo appunto a ragionare un po' più specificamente su modifiche e aggiornamento su quello che vi ho appena detto i piani nazionali di presa e presidenza non sono immodificabili i meccanismi per la loro modifica sono già previsti dall'inizio del regolamento 241 di cui vi dicevo come seguendo sostanzialmente il medesimo procedimento seguito per la approvazione del piano procedimento la logica banale quindi gli stati membri possono presentare proposte e queste proposte devono essere vagliate dalla commissione europea fatte proprie e sottoposte al consiglio e quindi agli altri stati membri che lo devono approvare e queste modifiche queste possono essere fatte si diceva solo a causa di circostanze oggettive e impreviste imprevedibili lo accennavate un attimo fa prima che intervenissi io le circostanze impreviste ci sono state innegabilmente in Europa purtroppo anche abbastanza tragiche diciamo e con importanti effetti anche sul piano della reperibilità e dei costi di materie prime ed energia e quindi si è deciso di consentire queste modifiche appunto anzi prevederle espressamente e chiedendo anche questo è un atto importante adesso ci arriviamo tra un istante aggiungendo un capitolo a ciascun PNRR un capitolo appunto volto a accentuare l'autonomia energetica dell'Unione cosiddetto capitolo Repower You e questo è un atto di fiducia nel nel PNRR tant'è che appunto questo si fonda sto andando un po' più veloce per cercare di non sforare troppo sul su una partenza che è stata molto incoraggiante per il PNRR guardate questo non va non ci facciamo abbagliare dalle polemiche di casa nostra eh il PNRR funziona il meccanismo nel suo complesso è già molto significativo il fatto che tutti gli stati membri hanno presentato entro la fine del 2022 i loro piani e tutti questi piani sono stati approvati alla Commissione Europea l'ultimo a presentarlo è stato l'Olanda i Paesi Bassi che l'hanno presentati a luglio del 2022 l'ultimo piano che è stato approvato è quello ungherese che è stato approvato il 16 dicembre sia per il piano della Polonia sia per il piano dell'Ungheria ci sono stati seri problemi quanto al rispetto dello stato di dritto della Ruralore dell'Unione Europea badate anche questo è un punto molto controverso ma molto interessante su cui c'è un polemica anche molto accesa tra costituzionalisti a livello europeo cosa è successo sostanzialmente è successo che l'Unione Europea si avrebbe adottato nel 2020 un regolamento che richiede il rispetto dello stato di dritto in conformità con articoli 2 e 7 del trattato sull'Unione Europea e condiziona la leva finanziaria al rispetto dello stato di dritto il PNRR ha fatto qualcosa in più richiedendo il rispetto di questo regolamento ha sostanzialmente internalizzato la riforma del potere giudiziario per esempio in Polonia cioè le primissime milestone del piano del PNRR polacco richiedono una riforma del potere giudiziario per accentuarne l'indipendenza e non è stato previsto tra l'altro neanche l'anticipo per il piano polacco quindi i soldi alla Polonia ai sensi del PNRR andranno soltanto una volta che la Polonia avrà detto di aver riformato il potere giudiziario e la Commissione Europea avrà attestato che la riforma è stata fatta conformemente al PNRR polacco possiamo discutere qualcuno dice ah ma così i valori dello stato di dritto però il meccanismo è un meccanismo molto interessante dal punto di vista della sua efficacia e vabbè non vado più di tanto se volete vi consiglio solo una lettura questa comunicazione del 21 febbraio della Commissione Europea fa proprio il punto sull'attuazione dei primi due anni del PNRR dal febbraio loro calcolano dall'entrata giustamente noi come Italia il compleanno lo calcoliamo dalla nostra trasmissione del piano la Commissione Europea lo calcola dall'entrata in vigore del regolamento 241 ci sta perché no ed è molto utile continuo a parlare di un meccanismo che ha un suo sviluppo positivo ovviamente guardate questo le prime richieste di pagamento sono state tutte valutate positivamente il primo caso critico lo trovate nell'ultima riga di questa slide si è verificato con la Lituania la prima rata per la Lituania prevedeva 33 maestron di queste due tra l'altro curiosamente consistente nella presentazione di emendamenti in Parlamento cosa che per noi non esiste maestron non sono mai appunto sono atti in gazzetta ufficiale non presentazione di emendamenti invece in questo caso sono state formulate così la Commissione ha detto che c'è un problema che a suo avviso non sono state conseguite in modo soddisfacente e per la prima volta ha attuato una metodologia che ha definito nella stessa comunicazione che vi citavo prima quindi qualche giorno prima perché il meccanismo non è nuovo soltanto per noi è nuovo pure per la Commissione Europea e finora in caso di mancato soddisfacimento delle maestron cosa poteva fare la Commissione doveva bloccare l'intera rata invece ha definito una metodologia ai sensi della quale può ridurre la rata sospendendone una quota e come è calcolato questa quota è oggetto di un'interessante metodologia definita all'interno di questa comunicazione che però vi annoierei a morte se cercassi di raccontarvela vengo invece abbastanza sono in conclusione sostanzialmente gli ultimi 3-4 minuti ce li ho? sì benissimo e provo a sostenere perché questo secondo me è un metodo nuovo di governo e come al solito da giurista costituzionalista parto dalle basi giuridiche qualcuno potrebbe dire ma come si fa a parlare di cambio di paradigma di momento hamiltoniano in parallelo all'evoluzione del bilancio degli Stati Uniti o di piano Marshall se preferite come si è detto prima se non si cambiano i trattati se non si sono cambiati i trattati sta di fatto che i trattati oggi è complicatissimo cambiarli abbiamo avuto una fase in cui si cambiavano ogni 5 anni più o meno adesso è diventato politicamente molto complicato pressoché è impossibile e allora come si agisce? si agisce e i costituzionisti questo lo sanno bene attraverso l'interpretazione evolutiva i trattati hanno una loro clausola di flessibilità ci sarebbe anche una clausola di flessibilità esplicita nei trattati ma non viene utilizzata anche qui per ragioni procedurali si è andata a interpretare in modo estensivo due articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea il 122 e il 175 valorizzando la solidarietà valorizzando una serie di elementi che non vi sto a trattenere ovviamente con alcuni elementi criticabili per carità ma lo si è fatto la natura dei piani è diversa dai fondi che vengono utilizzati nei fondi di coesione dalle politiche di coesione tradizionali non sono e questo purtroppo nel dibattito pubblico non si riesce a far passare questo messaggio non sono fondi da spendere fondi europei da spendere c'è addirittura qualche pubblicità ingannevole le agenzie che si propongono vi aiutiamo a prendere i soldi del PNRR insomma cose di questo genere non è la stessa logica dei fondi di coesione sono fondi che vanno al bilancio italiano possono anche paradossalmente non essere spesi basta che si fanno quegli investimenti e quelle riforme certo se vengono immessi nel sistema economico siamo tutti contenti e festeggiamo perché il PIL ne trae beneficio ma non è questo il vincolo che l'Unione Europea ci impone non c'è neanche un vincolo che l'Unione Europea ci impone come sto cercando di farvi capire c'è una scelta condivisa su iniziativa dello Stato membro interessato e ciascuno Stato membro in base al suo contesto a formulare il piano e il vaglio della Commissione è stato abbastanza blando le milestone e i target sono molto diversi tant'è che si è detto ma insomma poi alla fine saranno efficaci sono vaghi c'è un'opera di interpretazione questa è la cosa più forte di tutte ed è l'ultima che cerco a dirvi di dirvi c'è un costante dialogo tra le istituzioni nazionali di ciascuno Stato membro e la Commissione Europea un dialogo che è anzitutto su come interpretare milestone e target è un dialogo che si svolge quasi quotidianamente anzi direi quotidianamente perché qualche riunione a vario livello c'è tutti i giorni tra le amministrazioni interessate e gli uffici della Commissione Europea e che mira a un obiettivo comune che è quello appunto di trovare delle interpretazioni che abbiano senso che siano realizzabili e che conseguono gli obiettivi le finalità del piano certo questo richiede e chiudo davvero questo è il passaggio conclusivo ma mi fa piacere farlo e richiede un qualcosa di nuovo per la politica italiana sappiamo abbiamo avuto esperienze di governi cosiddetti tecnici perché cosiddetti perché i governi sono tutti politici nel senso che tutti devono avere la fiducia delle due Camere ovviamente ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione altrimenti saremmo in violazione ma tutti i governi hanno anche una loro dimensione tecnica e in alcuni casi abbiamo appunto avuto queste figure di governi che sono avuto composti o esclusivamente o prevalentemente da non parlamentari e presieduti da un Presidente del Consiglio non parlamentare e con una solida esperienza tecnica alle sue spalle come mai questo? perché la politica ha fallito sostanzialmente perché la politica non è riuscita a introiettare a un vincolo tecnico e a muoversi in coerenza con questo e siccome in questi procedimenti aeronazionali la parte che non è nazionale è essenziale in qualche modo si è dovuto fare e ci si è dovuti confrontare con una realtà in cui la dimensione tecnica è molto presente molto presente nella Commissione Europea è molto presente anche nel Consiglio dell'Unione Europea già Consiglio dei Ministri dell'Unione non nel Consiglio Europeo è un po' diverso il discorso per farlo vedere questo e farlo comprendere visivamente anche agli studenti faccio una semplificazione un po' forzata lo so però proprio in conclusione faccio vedere appunto una foto del Consiglio dei Ministri italiano che si riunisce a Palazzo Chigi questo è il governo Draghi è una foto del Consiglio dell'Unione qual è la differenza che notate? nella sala del Consiglio dei Ministri non hanno accesso altri che i Ministri e guardate questo non è tipico italiano c'è anche altri stati membri che hanno regole simili tradizionali l'istruttura tecnica c'è non è che non c'è c'è un preconsiglio a cui ho partecipato spesso negli anni scorsi in cui gli esiti sono riportati dal sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio e che verbalizza ciò che si decide in Consiglio dei Ministri era Garofoli in questo caso e Mantovano adesso nel caso invece del Consiglio dell'Unione vedete c'è un secondo giro di tavolo in cui siedono i tecnici la tecnica è presente fino alla formalizzazione finale della decisione e per chi sa un po' di diritto dell'Unione Europea o di politica europea sa che c'è il Corre Per il Comitato dei Rappresentanti Permanenti che a volte sostituisce integralmente la decisione del Consiglio o sa che spesso anche al primo tavolo partecipano tecnici se non ci sono i politici presenti questo vi dà l'idea che c'è una differenza tra il governo a Roma e il governo a Bruxelles perché il governo è lo stesso ma il processo decisionale è il medesimo ma si svolge con regole molto diverse in qualche misura forse si sta andando verso governi tecnicamente più consapevoli il vincolo tecnico tende a essere più presente in questo metodo di governo e per farvelo vedere però ho fatto quattro foto prese dal sito ufficiale della cabina di regia PNRR che si riuscita sempre nella stessa sala le prime due sono governo Draghi le secondo due sono governo Meloni tanto per dirvi che il e come vedete oltre ai politici ci sono anche i tecnici spesso su del tavolo ai margini comunque c'è una interazione tra tecnica e politica più presente c'è un indirizzo politico che riesce ad andare anche a durare oltre e infatti devo dire il governo Meloni ha almeno fin qui seguito nella fase 1 del piano il governo Draghi ha fatto molto ha fatto molto anche con l'assenso implicito della loro opposizione di Fratelli d'Italia dopo lo scioglimento e il governo Meloni nella prima fase ha seguito abbastanza efficacemente quello che era stato fatto fino ad allora cosa succederà in futuro questo non me lo potete chiedere a me io posso al massimo provare a spiegare come e a illustrare dal mio punto di vista ovviamente come il meccanismo ha funzionato fin qui grazie mille l'attenzione l'hai fatto in maniera eccellente grazie mille ci scambiamo? sì dai tutto il tuo armamentario lì ecco allora abbiamo cinque minuti per le domande anche possiamo anche esforare un po' ci sono domande abbiamo anche un microfono che che gira lì buongiorno a tutti sono Andrea Terlizzi ricercatore in scienza politica qui all'Università di Firenze grazie mille per la sua presentazione molto molto informativa molto interessante io ho un'osservazione che parte dalla sua valutazione del titolo dell'unità di missione razionalizzazione e miglioramento della regolazione che condivido poteva essere scelto un titolo migliore sicuramente il miglioramento della regolazione fa riferimento all'agenda better regulation che è da tempo presente in ambito europeo sappiamo che l'agenda better regulation si fonda su tre principi fondamentali evidence based policy semplificazione coinvolgimento di tutti gli stakeholders rilevanti riguardo il coinvolgimento degli stakeholders sappiamo che in fase di formulazione del PNRR un attore fondamentale come attori subnazionali come le regioni comuni non sono poi stati così tanto coinvolti e credo questo sia rilevante perché appunto alla luce della lettura della formulazione e implementazione del PNRR che analiticamente gli analisti di politiche pubbliche guardano come fasi separate ma in realtà sono fasi estremamente intrecciate sarei curioso qual è la sua osservazione su questo cioè il mancato coinvolgimento nella formulazione potrebbe aver causato queste difficoltà in fase di implementazione che per forza di cose ricadono poi sui governi subnazionali sia regioni che comuni grazie grazie alla domanda che tocca un nodo importante credo che oggi pomeriggio vi soffermerete anche specificamente su questo quindi posso essere anche molto superficiale e confesso anche di non aver seguito direttamente almeno la fase iniziale di gestazione del piano quindi però effettivamente il nodo c'è il nodo c'è c'è stato per l'Italia in sede di formazione non solo in Spagna hanno avuto nodi problemi molto simili e in parte deriva anche da nodi strutturali in parte è vero era difficile farlo probabilmente ma in parte siamo poco adatti noi come istituzione italiana e uno dei problemi devo dire più grossi in cui mi sono imbattuto in fase di implementazione è stato proprio il confronto con regioni e enti locali perché le sedi di confronto con regioni e enti locali come sono strutturate ora funzionano male e incoraggiano per esempio nei comuni resistenze anche forti dei processi di riforma non solo non assicurano un'adeguata partecipazione quindi qui c'è un torto se volete da parte delle strutture centrali che sono poco propense a ascoltare strutturalmente nella definizione delle polisi dal punto di vista di regioni e enti locali ma c'è anche un problema opposto cioè c'è il problema che le riforme per come concepite poi tendono a incontrare la resistenza anche in quelle medesime sedi quindi lì c'è un problema a livello italiano c'è un problema anche a livello europeo nel senso che le regioni e enti locali sono coinvolte a livello europeo ma spesso sono coinvolte dall'altra parte del tavolo non dalla parte delle istituzioni pubbliche ma dalla parte dei territori e questo anche li rende le responsabilizza e finisce per far sì che la politica sia e che la stessa commissione c'è una certa pigrizia a interloquire direttamente con le regioni e con gli enti locali in modo individuale ad andarsi a sporcare le mani con la regge regionale con cui invece bisogna avere a che fare per se si vuole incidere su una certa politica e quindi il nodo c'è sicuramente abbiamo cercato per quanto possibile di rendere più agevoli questi rapporti adesso vedo che in cabina di regia vengono convocati con maggiore regolarità le regioni e enti locali questo è stato anche uno dei limiti la scarsa convocazione della cabina di regia nel governo Draghi ha probabilmente anche fatto sì che le regioni enti locali fossero coinvolte in modo in misura non adeguata insomma adesso un pochino più di coinvolgimento c'è vediamo come andrà altre domande sì io ho due considerazioni una su quest'ultimo aspetto sul tecnicamente consapevoli no? cioè ora faccio faccio una un'osservazione un po' esagero è come se io andassi in banca e per darmi il mutuo della casa mi dicessero però ti devi sposare in comune cioè devi avere un devi avere un contratto è un'esagerazione no? cioè l'osservazione che l'Unione Europea fa allo Stato in relazione al chiaramente in quel caso alla rule of law o allo Stato democratico diciamo potrebbe potrebbe partire da un soggetto che effettivamente in sé ha un'istanza tecnica o comunque fa riferimento a un aspetto meramente tecnico però c'è un c'è un problema cioè c'è un problema che la tecnica non è mai neutra è comunque politicamente sempre orientata ecco e questa è una prima osservazione però la mia non è un'osservazione come dire quasi da scettico in questo senso è di come noi possiamo aiutare a far capire che la consapevolezza tecnica è un valore aggiunto che si aggiunge dentro cioè che non si annacqua ma è dentro il profilo della politica vera no? della politica che costruisce la seconda osservazione è un po' rispetto come dire a una genericità che io noto sia come soggetto diciamo così come massa critica ecco mi definisco come mi definirebbe il PNRR come parte della massa critica cioè di uno che in questo senso sta lavorando per le attività di ricerca del PNRR ora io noto una cosa dal basso e arrivare verso l'alto cioè che c'è stata un po' una omogeneizzazione in relazione all'utilizzo degli strumenti e delle attività nel mettere un po' tutti i profili dalla attuazione normativa alla ricerca alla realizzazione della digitalizzazione agli aspetti diciamo così arrivo fino addirittura alle piste ciclabili che tutti noi stiamo vedendo che sono essenzialmente finanziari cioè un po' il PNRR forse l'elemento di difficoltà che porta un po' le persone ad essere scettiche diciamo anche il pubblico ad essere scettico e che non vede nel progetto degli obiettivi trainanti e degli obiettivi che vanno a traino faccio un esempio la ricerca cioè la ricerca è quello che stiamo noi facendo effettivamente poteva essere il traino non una cosa tra le tante non un aspetto tra i tanti ma come addirittura stiamo parlando della missione 4 cioè doveva essere la missione 1 e tutto il resto poteva andare le infrastrutture sempre un obiettivo top e poi tutto il resto in questo diciamo così forse l'elemento che è difficile da capire anche per la disseminazione e la comprensione dell'attività è proprio una sorta di gerarchizzazione di quali sono gli obiettivi primari e poi degli obiettivi che seguono a ruota e faccio un ultimissimo aspetto cioè siamo sicuri che modificando la legislazione e soprattutto modificando per esempio il processo noi raggiungiamo l'obiettivo effettivo che si individua nel piano o abbiamo una pubblica amministrazione e lo dico anche dal punto di vista dell'università che non è preparata e forse il piano poteva intervenire sull'amministrazione sulla sulla semplificazione ma intesa come capire come funziona e come dovrebbe funzionare l'amministrazione in quest'ottica anche tecnicamente consapevole per raggiungere meglio quei risultati che questo manca un po' come se avessimo ridipinto la stanza senza aver corretto quello che creava le crepe grazie 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 il professor Logo per queste serie di domande che sono molto importanti ovviamente diciamo nei limiti in cui posso rispondere in tempi rapidi e non che divino le mie competenze diciamo sul primo punto io non parlerei di tecnica necessariamente orientata l'esempio è carino quello del mutuo condizionato al matrimonio in comune e lo prendo per buono però ricordando che a monte c'è stato l'impegno a sposarsi in comune e quindi il tecnico che fa il tecnico ti ricorda che tu ti sei impegnato entro una certa data a sposarti in comune per avere il mutuo o anche a prescindere dal mutuo tu quell'impegno l'avevi assunto la tecnica in realtà è spesso in che cosa consiste nel ricordare nel far valere impegni già assunti e in questi procedimenti eronazionali questo è il punto chiave se tu hai detto all'inizio che facevi la riforma delle pensioni poi sei stato eletto hai avuto una maggioranza schiacciante in Parlamento e ogni riferimento a quel che è successo dal 2008 in poi è puramente casuale e quella riforma non l'hai fatta il problema sorge sorge per l'Italia ma sorge anche per tutti gli altri paesi europei e allora serve qualcuno che ti ricordi guarda che tu quella riforma ti sei impegnato a farla se posso scusa giusto per giocare continuare a giocare sull'esempio sul resto io posso dire non sono in grado non controllo tutte le iniziative posso dire che sicuramente si poteva far meglio certo sono nodi correlati la riforma dell'APA è prevista ma è una cosa che non è che fai in sei mesi così come in sei mesi è più semplice costruire la stessa scuola in tutta Italia con lo stesso progetto che progettare 30 scuole 30 edifici scolastici diversi c'è un approccio top down nel PNRR non c'è dubbio anche la domanda di prima lo sottolineava che può essere migliorato e che in parte può essere migliorato se come sistema paese siamo in grado di fare le cose meglio e in tempi più rapidi di disegnare le politiche pubbliche in maniera più efficace in questo mi permetto di dire fa piacere appunto dirlo perché sono probabilmente convinto di questo che tipo di tecnica la tua domanda mi consente di tornare un attimo su questo di che tipo di tecnica abbiamo bisogno e di che tipo di tecnica ha bisogno il governo italiano qui c'è un credo che ci sia un passo in avanti molto significativo perché tradizionalmente dov'è che il politico si ferma in Italia si ferma dove si tratta di far di conto di tenere la cassa e quindi ragioneria generale dello Stato MEF o si ferma dove si tratta di scrivere materialmente le norme e quindi uffici legislativi e soprattutto il DAGL il Dipartimento Affari Giuridico Legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso cui tra l'altro la mia unità che coordinavo afferiva e infatti i coordinamenti tecnici più significativi e non solo tecnici anche politici sono stati in MEF la Presidenza del Consiglio per la parte appunto contabile e per la parte normativa per rapportarsi con la Commissione europea non bastano questi due apparati tecnici aiutano ci vogliono come il pane per carità e sono molto sollecitati ma serve qualcosa di più qualcosa che è il policy advice o quello che volete chiamatelo come vi pare ma va fatto da economisti giuristi e anche politologi non solo dai politologi perché sennò non funziona ma richiede statistici e quant'altro e questo è quello di cui abbiamo provato ad attrezzarci e speriamo che questa attrezzatura cresca e sia in grado in prospettiva di evitare di gerarchizzare gli obiettivi di disegnare le politiche di fare quello di cui c'è bisogno per utilizzare appieno queste risorse e le opportunità che ci sono anche perché se questo metodo di governo viene stabilizzato e non escluso che sia così il patto di la riforma del patto di stabilità e crescita che in itine ancora non si sa bene dove va da parare c'è un intensissimo accesissimo dibattito in proposito ma con ogni probabilità prenderà alcuni elementi di questo metodo di governo proprio perché è un metodo di governo che sta funzionando complessivamente abbastanza bene grazie mille e allora io chiuderei questa prima parte del nostro pane del mattino ringraziando nuovamente il professor Lupo per questa lucida interessante presentazione la prolettrice della ricerca Berti e abbiamo 15 minuti di coffee break ci rivediamo qui quindi tra alle 25 11 e 25 il coffee break è nella sala 106 quindi uscite da quella porta e a presto grazie a tutti 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 Grazie.